Il mio progresso italiano vive un momento di grande emergenza educativa verso gli adolescenti. Abbiamo mille indicatori che ci dicono come stringere il cerchio dell'attenzione, dell'attività, della promozione di un presidio che può essere fatto dalle polisportive, avendo circa il 50% dei adolescenti fatti di vita sportiva per seguire le polisportive del nostro comune. È un libro che nasce dalla passione, nasce dalla passione per lo sport e noi crediamo, io e l'altra coautrice, Angela Gamberini, che sia lo sport un veicolo per poter portare dei valori che prescindono appunto dallo sport, valori educativi molto importanti. Questo libro parla appunto dell'educazione che però può andare a pari passo con il discorso prestativo. Questa cosa si può fare, non è semplice ma si può fare, si può fare soprattutto se riusciremo a coinvolgere le associazioni sportive, le dirigenze, le scuole e tutte le agenzie educative che riescano appunto a poter far sviluppare il bambino nel migliore dei modi.